Vi rubo qualche secondo per ricordarvi di supportare il canale e di entrare nel gruppo telegram che trovate qui sotto in descrizione, buon video! Salve gente e bentornati in questo nuovo video Quest'oggi ho deciso di aprire una specie di mini serie nella quale parleremo della posta Quindi di card market o comunque tutte quelle spedizioni che comprendono la posta E ne approfondiremo i segreti retroscena che forse alcuni di voi non sanno perché magari si limitano ad acquistare carte Diciamo randomicamente nel market e quindi non sanno diverse sfaccettature e retroscena delle poste Allora, come sapete, intanto ditemi se questa serie, che sarà di tre episodi, perché comunque affronteremo i tre tipi di poste Vi può interessare o se vi sono stato utile Parleremo delle tre poste, o meglio, dei tre metodi di spedizione principali perché poi ce ne sono praticamente infiniti E niente, quindi parliamo della posta 4, della posta 1 e della lettera tracciata Allora, lettera tracciata e posta 1 ne parleremo in un prossimo video Perché sono due argomenti che si separano abbastanza, secondo me, da quello che è la posta 4 Avevo già in passato, premessa, provato a registrare questo video mettendo dentro tutte e tre i tipi di post Questo è spiegato uno per uno, ma veniva troppo lungo, veniva troppo un casino E quindi ho deciso di farlo magari più breve, più preciso, parlando, magari facendo uscire appunto tre video Ognuno con un tipo di posta Quindi partiamo da questo che è la posta 4 Allora, la posta 4 che cos'è? Allora, e quando si acquista in posta 4? Allora, la posta 4 è relativamente il metodo meno costoso di spedizione o di acquisto di una carta, diciamo Perché è quello meno costoso? Perché costa più o meno sull'euro e quaranta E che cosa comprende la spedizione? Comprende sostanzialmente che il venditore prenda una busta Che può essere sia quella con le bolle in plastica dentro, quindi quella classica giallognola O se no anche una normalissima busta di quelle bianche Ci metta la carta dentro e ve la spedisca mettendo la busta dentro i cassoni, diciamo, rossi Che ci sono fuori dalle poste Ora, perché è il metodo che costa meno? È il metodo che costa meno per diversi motivi In primis, il numero di carte acquistabili, quindi spedibili per posta 1 È di 4, massimo 4 Quindi, se dovete fare un acquisto di una, due, tre o quattro carte Relativamente conviene la posta 4 Sì, ma in realtà no Perché? Perché ci sono anche delle altre cose da tenere conto Innanzitutto che la posta 4 E ora andremo a parlare di card market E non di lettere che magari manda qualche altro, diciamo, ente di vendita delle carte Perché io, appunto, ho esperienze praticamente solo su card market O da qualche privato per basi Però, ovviamente, quelle sono cose che vanno al di là dell'acquisto carte Perché sono completamente diverse La posta 4 È un metodo di spedizione, appunto, che Non può superare il valore di 20 euro Questo cosa vuol dire? Che se tu provi a comprare anche una sola carta Vi faccio un esempio Una carta che sta più o meno sui 25 euro Che è talento tattiche triple Se tu vuoi comprare talento tattiche triple Non puoi comprarla in posta 1 Perché card market te la scalera direttamente in posta 3 E in posta 1 Questo perché? Questo perché la carta è troppo costosa E che senso ha? Se ho preso solamente una carta Beh, perché ci sono delle condizioni che il venditore deve rispettare Che il market dà sulla posta 4 E che anche, appunto, l'acquirente deve seguire Quali sono queste condizioni? Innanzitutto, come sappiamo, la lettera deve essere spedita Entro 7 giorni da la conferma del pagamento Quindi alcuni, mi è capitato nella mia esperienza personale Mi hanno magari fatto un acquisto Non hanno caricato subito la carta Perché aggiunge, per chi non sapete, card market il 5% Se lo caricate immediatamente più 30 centesimi di tasse dalla vostra Paypal Invece se fate il bonifico dovete aspettare Prima che il bonifico arrivi Poi che ve lo elaborino E quindi passano dei giorni La policy di card market dice che quando Arriva il pagamento Quindi arriva acquistato e non prenotato Prenotato significa che la carta è stata messa da parte E hai una settimana per pagare Quando viene acquistato avete una settimana per spedire Questa è l'unica cosa che deve tenere a mente il venditore Come sarà poi, spoiler, anche per la posta 1 E per la posta tracciata, per la lettera tracciata diciamo Poi, che cosa succede quando si riceve un ordine O si fa un ordine di posta 4 Bene, si prende la lettera Che vi ho già spiegato quali possono essere le buste Ma ci sono tantissimi anche tipi di buste in realtà E in linea di massima si prende o un francobollo O si va in posta Il problema qual è? È che se si va in posta Spedire la lettera in posta 4 Il costo della spedizione per noi venditori è 2,80€ Quando erano le prime armi Ci sono cascato anch'io Che fossi andato a spedire una lettera Da 1,40€ In posta me la facessero pagare gli 80€ Ho detto ma come è possibile Magari una spedizione da 1,42€ Perché la carta è da 2 centesimi Questo perché Questo perché in realtà il vero metodo È di dover comprare il francobollo E Attaccare il francobollo E imbucare la lettera sul cassone Rosso fuori Il francobollo costa 1,10€ Quindi sostanzialmente il venditore Ha 30 centesimi di guadagno Se poi non fosse per la lettere Che comunque costano Lo scotch Il tempo Le sleeve E tutto Che comunque sono comprese L'impacchettamento Eccetera eccetera Quindi in realtà il guadagno su queste lettere Soprattutto della carta di 2 centesimi È minimo Qual è il vantaggio per il venditore? Che però è un enorme svantaggio Per chi compra Il vantaggio del venditore È che i soldi arrivano subito Infatti appena voi confermerete l'invio Arriveranno i soldi Questo è diverso dalla posta 1 Della quale parleremo Ma vi anticipo già Che nella posta 1 Solo quando la carta arriva Vengono dati i soldi al venditore Questo che cosa significa? Questo significa che Il venditore Non è suggestionato Dal far arrivare la lettera O meglio Mi spiego meglio Che la lettera Arrivi o non arrivi Al venditore Può fregare poco Infatti Spesso Essendo che La lettera Non è Tracciata E qui non c'è nessun modo Di recuperare Il posizionamento Succede che O la lettera arrivi Molto dopo O la lettera Si perda O la lettera Faccia giri Messe nella destinazione La lettera torna indietro E poi deve essere rinviata Tutte queste cose Non vengono segnalate Da un eventuale Codice di tracciabilità Da una firma elettronica Da determinate cose Questo Per dire che cosa? Questo per dire che cosa? E aggiungendo anche Una cosa che mi sono Gliato di dire Che Al contrario Della lettera Della posta 1 O eventualmente Della lettera tracciata La posta 4 Ha un mese per arrivare Invece le altre Hanno due settimane Questo perché? Questo perché È molto più lenta Come posta Può arrivare 4 giorni dopo Come può arrivare Un mese dopo Come può arrivare Addirittura due mesi dopo Io ho gente Che mi ha confermato L'arrivo Due mesi dopo Questo perché? Ci saranno dimenticati? Sì Può essere Molta gente si dimentica Di confermare Quando arrivano le letteri Ricordatevi di farlo subito Perché è importante Per il venditore A voi Avete le vostre carte E ve ne fregate No È molto importante Confermare subito Anche per Tempistiche E valutazioni Che Cardmarket Dà Al servizio Che vi è stato offerto E per il quale Avete pagato Detto ciò Torniamo sul discorso Del perché È una lettera lenta È una lettera lenta Perché Non ha appunto Questo codice Che dice Dov'è È una lettera lenta Perché Potrebbe non arrivare È molto facile Che si perda Inoltre È molto facile Subire truffe O essere truffati Da questo Tipo Di Lettera Questo perché Questo perché I tempi Sono talmente lunghi Certe volte Che sembra Che la lettera Non arrivi mai Io Ho fatto degli ordini Ma anche Ho ricevuto degli ordini Nei quali Spesso Molte persone Mi venivano a scrivere È passato un mese Una settimana E la lettera Non è ancora arrivata Ti mettono un arrivato Mi mettono un arrivato E una settimana dopo Arriva la lettera Questo perché Non è che Appena mi sono arrivato Gli ho spedito la carta No Ma è semplicemente La carta Tu la spedisci E come fanno Tantissimi venditori Che Non puoi Sapere Quando arriva Perché magari Le poste La perdono In un buco Devono ritrovarla Devono riprendere Devono spedirla Si perde La riprendono Torna indietro Riparte E fa dei giri immensi Vi dico Solamente da Venditore Di avere pazienza E di sperare Che l'ha preso La carta Sia una persona onesta Questo perché Si possono trovare Due tipi Di Persone Sia venditori Sia acquirenti E Prima di spiegarvi Questi due tipi di persone Che si possono trovare Vi spiego anche un'altra cosa Che forse Non tutti sapevano Ed è questa la vera curiosità In fondo del video Che Se la lettera non arriva Quindi La lettera Per qualche caso Viene persa dalle poste Diciamo Non facciamo Dei paragoni Non l'ha inviata Dicendo Che l'ha inviata Eccetera eccetera Se la posta Non arriva La lettera non arriva Si può chiedere Rimborso Però Il rimborso Non è obbligatorio Da parte Del Venditore Questo perché Questo perché C'è una piccola Politica Da parte di Cardmarket Nella quale Dice Molto schiettamente Tu ti sei preso il rischio Di pagare una spedizione Un euro e dieci in meno Cazzi tua Sostanzialmente Se non arriva la lettera Perché hai scelto tu Di mettere Un metodo di spedizione Che E non è tutelato Quindi Il poro Cristo Che ti vende la carta Non è che può prendersi Lo strike Del non arrivato Tra molte virgolette E Rimborsarti anche Tu hai scelto Le spedizioni da 1,40 Tu ti becchi La perdita di soldi E il venditore Si prende lo strike E molti diranno Eh ok Ma magari Ho preso anche una carta Da 15 euro Rivolgo indietro i soldi Almeno facciamo metà in metà Eh sì Si può Alcuni lo fanno Però È Molto facile Incappare In delle persone Che Se non la lettera Non tracciata Ma riprendono qualche card E dicono Eh ma non mi è arrivata Devi darmi indietro La metà dei soldi E quindi magari Su card che costano 15-20 euro Se già cominciano Chiediti indietro 7-8 euro Che magari è una carta Che non è arrivata Eccetera eccetera E c'è gente Che fidatevi Lo fa Ho avuto gente Che ha provato a farlo Infatti Molte delle spedizioni Che non arrivano Ma come non sono arrivate a me Non sono arrivate a Grandissimi store Se vedete Grandissimi store Hanno un sacco di carte Non arrivate Fidatevi Che c'è Molta gente Che può risparmiare Qualche soldo Prova A fare questi Tiri meschini Diciamo che È una percentuale Minima Perché Che può essere Che una lettera Si perda Soprattutto Lettere quelle Da pochi centesimi Ogni tanto Magari il proprietario Si dimentica di confermare Eccetera eccetera Dopo il mese Noi mandiamo le lettere Però tanta gente C'ha magari L'account Collegato A una mail Fatta in quel momento Lì qui Non le guarda mai Eccetera Si dimentica di confermarle Quindi La spedizione non è arrivata Detto questo La spedizione non è arrivata Che cosa Comporta Al venditore Perché Detto così Sembra che Il venditore Si tiene i soldi Si banca uno strike Ma cos'è Effettivamente lo strike Lo strike Ragazzi È una specie di segnalazione Non è arrivata La quale Se hai il 2% Di vendite Non arrivate Quindi una percentuale Che su 120 Non devono arrivare 2 E È molto probabile Che su 100 vendite Soprattutto se ne fai un sacco Da Uno Da un post a 4 Non arrivino O almeno ci mettano tanto Perché Su 100 vendite Esperienza personale Quella tra i 30 Sono un 40% Se già 60 vendite Sono da un euro e 40 È difficile che 60 vendite Da un euro e 40 Con Le post in Italia Perché anche le post in Italia Sono veramente Veramente Gestite In maniera Indegna Sotto certi punti di vista Sotto certi punti di vista Sono Abbastanza precise E veloci Ma sotto altri Certi punti di vista Sono abbastanza indegne Che non arrivino È difficile Che magari Ci mettere È ovvio Che alcune Potrebbero metterci Di piacere Quindi La maggior parte Nelle volte La gente che vedete Con il triangolino Che è il simbolo Che ci sa Il 2% di vendite Non Non arrivate È che La gente Dopo un mese Si sta anche Di aspettare la lettra Come è giusto che sia Però la lettra Prima o poi arriverà E quindi Magari la gente Si prende Per quelle due settimane Uno stop Dalle vendite Da 1,44 Perché Quando il 2% di vendite Non puoi più vendere In 1,44 Che quindi Sempre la posta 4 E comunque Un po' Un danno Per il venditore Perché è quella Con la quale Tra molti virgoletti Guadagni di più Letto ciò Facciamo Una piccola premessa Su Quali possono essere Le truffe E da quali bisogna Restare attenti Allora Le truffe Sostanzialmente Quali sono Le truffe Sono quelle là Come avete potuto Intuire Che Viste Le policy E tutto Ci sono O venditori Che magari Dicono Che la carta È stata inviata E poi Effettivamente La carta Non è stata inviata Soprattutto su carte Che costano Qualche euro Perché Mi è capitato Con Non con il mio account Fortunatamente Perché Non acquisto mai In 1.40 Perché So che Intanto Carte Voglio che mi arrivino In un tempo decente Perché io Aspettare anche Tre settimane Per una carta Che magari Mi serve il sabato E Pretendere di acquistare In 1.44 È Ok Esperienze personali Di gente Che È venuta a chiedermi Ma perché la carta Non arriva dopo una settimana Che l'ha spedita In 1.44 Vabbè Non importa Comunque Ho avuto esperienze Di carte Che Per motivi Di banlist Per uscite Di set Sono state Acquistate Un determinato prezzo Qualche giorno prima Sono state salite di prezzo Il giorno dopo E non sono mai arrivate E sono state Rimesse in vendita Qualche euro In più Quindi Potete capire E fare 2 più 2 Che la lettera Non è mai stata inviata Il rimborso Non è mai arrivato La lettera non è arrivata La lettera non è arrivata E si tiene i soldi E si tiene i soldi E rivende la carta Più del prezzo Per i venditori Per gli acquirenti Detto fatto Compri una carta Non confermi l'arrivo Dici Emeron MRO Tanto non si può verificare Se trovi Il venditore Buono Quello che ci tiene A Non avere Recensioni negative O comunque Quello che Sotto determinati Punti di vista È anche Forse Troppo buono Perché È anche questione Di essere Troppo buoni Perché la gente Veramente Su card market Molte volte Rompe Propri Coglioni Perché C'è da dirlo C'è gente Che veramente Vuole che gli invii La carta Il giorno dopo Anche se Hai altro da fare Hai 7 giorni Per inviare Una lettera Se non la spedisco Il primo giorno Non è che devi Scrivermi Ma tra quanto La invii No Cioè Un tempo Di 7 giorni Io qui 7 giorni Devo Spedirtela in tempo Sì Però Non puoi pretendere Che dopo un giorno Io te l'abbio spedita C'è Ovviamente Chi può permetterselo Perché ogni giorno C'ha 30 40 20 A fare Quindi si Spedisce il giorno dopo Ma la gente Che non è un Nostore Eccetera eccetera Non riesce A andare a spedire Ogni giorno Dovete capire Questa cosa È inutile Che pretendiate Che vi serve La carta Per il sabato E la ordinate Il giovedì È difficile Che il giovedì Uno Vede l'ordine Magari anche una carta 30 centesimi Prendete in posta Uno Non è che uno Prende Esce di casa Va in posta Il pomeriggio Fa il pacco Subito dopo No Cioè Bisogna comunque Di tempo Detto ciò Che cosa Ne pensate Della posta 4 Voi prendete Carta in posta 4 Se sì Vi siete trovati bene Con questo tipo Di spedizione Avete subito Truffe O Vi sono sempre Arrivate Anche in tempo Decente Non avete mai avuto Bisogno di Contattare i venditori Eccetera eccetera E ditemi se questo Forma vi può interessare Se avete altri argomenti Relativi a card market O comunque Le spedizioni O comunque anche Quello là che è il mondo Che secondo me Non è molto Diciamo Parlato Di Yu-Gi-Oh Che è tutto Quello che sta dietro Quindi spedizioni Tutte quelle cose Un po' più Burocratiche Che Magari Molti ignorano E molti Quindi se non Ignorassero Potrebbero Diciamo Capire Come funziona Meglio Detto ciò Veramente Questa volta Vi saluto Vi ricordo Di passare Da tutti I link Che trovate Qui sotto Per i vari Miei profili Social Card market Se appunto Volete Acquistare Carte O Di entrare Assolutamente Nel gruppo Telegram Perché Perché di sì Perché ve lo dico io E ci vediamo Al prossimo video Saluti